A che età ti sei avvicinato al rugby e cosa ti ha affascinato da subito di questo sport? Io ho iniziato all'età di 7 anni al rugby carpi e la cosa che mi ha affascinato di più di questo sport è stato il contatto fisico perché sono sempre stato uno abbastanza massiccio e quindi negli altri sport facevo fatica e allora grazie a mio zio che mi ha consigliato questo sport mi ci sono avvicinato e mi sono innamorato subito Hai detto bene perché 194 cm di altezza per 128 kg e tu infatti sei pilone, pilone destro, un ruolo che ti piace? Assolutamente sì, ho iniziato pilone destro il primo anno di zonale e prima ho giocato sempre numero 8, non ho mai cambiato Le tue principali caratteristiche offensive e difensive? Presentiamoci un po' i tipi Sicuramente offensivo il portatore di palla cerco sempre di essere il più avanzante possibile e ringrazio anche il fisico per aiutarmi in questo mentre difensive è il placcaggio mi piace adesso la tendenza che c'è nei piloni perché è importante che sia forte in mischia ma devono essere forti anche nel gioco aperto Che valore ha avuto l'esperienza nel massimo campionato italiano con le Fiamme Oro? Innanzitutto ringrazio le Fiamme Oro per avermi dato la possibilità di crescere e la polizia di stato e mi ha aiutato molto sin da subito perché sono riuscito a guadagnarmi il posto e a giocare molti minutaggi Mi piace l'esperienza con gli azzurini che motivazioni in più ti ha dato? Mi ha dato la motivazione di non mollare mai e cercare sempre di aumentare di gradini in gradini Le prime partite con le Zebre sono state un po' difficili perché dovevo ambientarmi meglio e ho avuto anche un po' d'ansia all'inizio però adesso spero di riuscire a guadagnarmi anche la fiducia dei compagni ma pian piano mi sto costruendo qui dentro spero di riuscire a guadagnarmi il posto da titolare poi ben venga anche una convocazione in maggiore sarebbe fantastico Un consiglio ci chiede appunto per diventare un reggbista professionista come te? Non mollare mai Non farsi mai prendere dalla pressione e dall'agitazione ma è soprattutto di non mollare mai allenarsi giorno giorno, giorno per giorno, tutti i giorni